ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con crema di ricotta noci e speck il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono pasta ricotta noci parmigiano olio evo sale pepe speck tagliato a pezzetti e latte andiamo via alla ricetta cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo speck ed azioniamo il bimbi per quattro minuti 100 gradi anti orario velocità 1 mettere da parte lo speck senza lavare il boccale mettere il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 aggiungere le noci ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 aggiungere la ricotta il latte il pepe il sale e l'olio e ad azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 7 la crema di ricotta è pronta condire la pasta aggiungendo anche lo speck ed amalgamare bene pasta con crema di ricotta noce e speck grazie e alla prossima ricetta ciao 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 ciao